Cari fratelli e sorelle, con nel cuore l'eco delle parole di Gesù a Marta Io sono la risurrezione e la vita Facciamo della settimana santa il modello della nostra vita terrena Seguiamo Gesù e permettiamogli di riprodurre noi il suo mistero di morte e risurrezione Facciamo sempre più spazio nel nostro cuore e al suo spirito per diventare capaci di amare i nostri fratelli e sorelle con un amore, il suo che vada oltre ogni pregiudizio, ogni dubbio, ogni paura, ogni confine, anche quello della morte Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre